Ciao a tutti, io sono Francesca e oggi altro video assaggi. Ieri sono stata a Miniso e ho preso delle cosine. Allora, ho preso questo, che praticamente ho sbagliato, vabbè. Volevo assaggiare quello con la caramella, lo vado a prendere. Eccolo qua, questo è quello con la caramella, c'è mia figlia che sta giocando. E poi ho preso questi due qua, e poi ho preso delle altre cose, ma quelle ve le faccio vedere un altro video assaggi. E allora, io direi di partire da questo qua con... Non è caramella però è fragole, eh. Però non si apre. Ok, ce la sto... Ce l'ho fatta. Il profumo non è buonissimo, però... Assaggiamo. Allora, questi qui sono praticamente i biscottini. Ne metto poca, metto questa che qua. Non è male. Questa me la finisco dopo prendo. Però non è male. No. Pensavo non mi piacesse invece. A gran scoperta, sì. Adesso direi di passare a questi qua. Allora, questo qui penso sia tipo una cannuccia. All'incirca. Eh sì, è una cannuccia. Però io la mangio così. Questi sono buoni. Voglio assaggiarli tutti per poi dopo dare... Cioè, assaggiare anche questi qua. Oppure dopo dare un voto. E dirvi qual è il mio preferito. Si apre la di qua. Questo dovrebbe essere tipo unicado, però... Comunque questo qui è cibo asiatico. Quindi lo trovate anche su American Uncle. Io non l'ho preso da American Uncle. Questi sembrano i Mikado Gusto Reo. Non sono male, eh. Tra mine possono essere già tanti. Allora, diciamo che tra tutti questi... I miei preferiti sono... Questi qui. Questi qui. E... Perché sono buoni. Cioè, cioccolato così. Per me queste cannucce qua sono buonissime. Poi... Questo va al secondo posto. E questo va al terzo. Perché praticamente non sono niente di nuovo, secondo me. Allora, adesso... Vado all'assaggio di questo cappuccino. Che ho preso al desper. Io, quando faccio colazione, ultimamente bevo questi beberoni qui. È mia figlia che sta picchiando qualche giochino. Ma comunque questo mukbang... Io lo sto facendo il 26 di giugno. che uscirà a ottobre-novembre, quindi... Novembre. Per ora metà novembre. Eh, sembra quello della... dell'altro, effettivamente. Però va bevuto così. Infatti, ha anche lo stesso... Il coperchio. È buono. Non so se... Se lo faccio sempre l'altro. Devo controllare. Però è buono. Molto buono. Non è il migliore di quelli che ho assaggiato. Però... Non è neanche il peggiore. Ok? Quindi... Sì, si classifica tra migliori, però. Tranquillamente. Detto questo... Adesso non lo finisco di bere, però... Se lo finisco di bere in video... Dura dieci minuti il video, quindi... No. Allora, adesso io lo finisco di bere... E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!